Amici, buonasera. Nella scorsa lezione abbiamo parlato dell'allargamento della guerra tra l'Impero Romano d'Oriente ed il Califato Islamico. Il conflitto, che aveva già tolto i Bizantini in Medio Oriente ed Egitto, si era esteso ulteriormente, dall'Anatolia alla zona di Cartagine, nonché al mare, dove, nel 655, la flotta bizantina era stata sconfitta in una grande battaglia navale. Dopo di essa, il governatore arabo della Siria, Muawiyah bin Abi Sufyan, ottenne dal Calif Uthman, suo cugino, l'autorizzazione ad attaccare Costantinopoli. Ma nell'anno 656, la guerra subì una battuta d'arresto, per il verificarsi della prima grande crisi dell'Islam. A questa crisi dedichiamo la lezione di oggi e la prossima. Ho preferito dividere l'argomento in due lezioni, ma le pubblico su YouTube nello stesso giorno, per chi volesse sapere subito come finì la complessa vicenda. Facciamo un piccolo passo indietro. Dodici anni prima, alla morte del Califo Umar, un comitato di compagni del profeta ne aveva eletto il successore. La scelta non era stata facile. Molti ritenevano che essa avrebbe dovuto ricadere su Ali bin Abi Talib, cugino e genero di Muhammad, nonché prima persona di sesso maschile a convertirsi all'Islam, e uomo dalla vita esemplare, già bypassato nelle due precedenti scelte del Califo. Secondo alcuni, in qualche occasione il profeta stesso aveva fatto intendere che Ali sarebbe stato il suo ideale successore. Tuttavia, anche questa volta, cioè nell'anno 644, la scelta non era caduta su Ali, bensì su Uthman bin Affan, l'altro genero del profeta, il quale aveva assicurato al comitato che, se fosse stato lui il prescelto, avrebbe garantito la massima continuità rispetto alle scelte operate dai precedenti Califo. Questa dichiarazione tranquillizzante lo avvantaggiò per ricoprire un ruolo nel quale avrebbe avuto poteri quasi illimitati. Uthman era stato un abile mercante, ed era una personalità di amministratore più che di condottiero o di leader religioso. Egli organizzò le finanze e l'amministrazione del Califato, opera indispensabile per gestire la continuità nelle regioni che questo aveva assorbito. Inoltre, organizzò una ricostruzione filologica del Corano, libro originato da resoconti orali e inizialmente trascritti su materiali disparati, facendone raccogliere le copie disponibili per ricavarne un'unica versione, che fece poi distribuire in tutte le province, le distruggendo infine esemplari non conformi. Fu una decisione lungimirante, che risparmiò all'Islam controversie che avevano tormentato per secoli il cristianesimo. Ma la discordia si fece strada per altre vie. Quando era stato designato quale terzo califo, Uthman aveva già 64 anni, e si era trovato a capo di un vastissimo stato, peraltro ancora in tumultuosa espansione. Per carattere e per età, egli non avrebbe potuto governare, con il carisma e il pugno di ferro del suo predecessore. Egli concesse maggiore autonomia ai governatori delle province, che scelse spesso tra gli uomini del suo clan, quello degli Omayyadi, cioè una delle stirpi che avevano dominato Makkah in epoca preislamica. Quest'aristocratico clan della tribù dei Quraysh aveva fieramente avversato il profeta, fino a che questi non conquistò la città santa. Si può quindi immaginare con quali sentimenti molti di coloro che avevano subito l'esilio a Medina, o avevano avuto familiari uccisi dai Meccani, avessero visto gli ex nemici accedere alle maggiori posizioni di potere nel Califato. I nuovi capi appartenevano ad una nuova generazione, e vivevano la loro fede diversamente dai primi seguaci di Muhammad. I primi credenti avevano aderito ad una religione predicata da un uomo che sosteneva di essere l'ultimo profeta concesso al genere umano, utilizzato da Dio per dare il suo ammonimento finale all'umanità immersa nell'errore, nel peccato. Muhammad non aveva attribuito alcuna data al giudizio universale, e il giorno in cui tutti i morti sarebbero risorti, ad ognuno sarebbe sembrato di aver chiuso gli occhi il giorno prima, anche se era morto da secoli. Ma la relativa imminenza della fine del mondo era quasi implicita nel suo messaggio. Ne era, in ogni caso, il presupposto logico, come abbiamo visto nella decima lezione. Negli anni successivi, però, la comunità dei credenti si era fermata, oltre ogni iniziale aspettativa. Essa si era estesa all'intero popolo dell'Arabia, e aveva conquistato rapidamente altri paesi. Le nuove generazioni non avevano vissuto l'emarcinazione riservata ai primi credenti, bensì il travolgente successo degli Islam. Quegli stessi nomadi, confinati da sempre in territori desolati, oppressi dalla povertà, si erano trovati di colpo a dominare le più sofisticate metropoli del mondo – Damasco, Ctesifonte, Alessandria – come avrebbero potuto i loro capi vivere nell'attesa della fine del mondo, ora che la loro fede vi trionfava, e che essi stessi dovevano gestirlo? Così, il giudizio universale veniva sempre più mentalmente confinato ad un futuro lontano, i suoi terrori considerati più concernenti coloro che rifiutavano l'Islam, che coloro che lo propagavano. Inevitabilmente, i nuovi leader si impegnavano più ad estendere, a forzare il Califato, che ad interrogarsi sui propri peccati, e tendevano a considerare le nuove ricchezze come meritate ricompense, provenienti dal favore di Dio e dalla giusta rovina dei miscredenti. Veneva così a manifestarsi un oiato tra due modi diversi di vivere l'Islam. Da un lato, come abbiamo visto nella decima lezione, l'Islam è religione di adempimenti civili, la testimonianza dell'unicità di Dio, le elemosine, la preghiera collettiva, il digiuno, il pellegrinaggio. Dall'altra, però, questa religione era nata dall'angosciosa domanda sul come prepararsi individualmente al giorno tremendo del giudizio divino, coincidente con la fine del mondo. Il giorno in cui, per usare le spaventose immagini delle più antiche sure, persino i bambini incanutiranno, e la terra restituirà i corpi che vi furono sepolti, dopodiché i peccatori precipiteranno per sempre in un'immane fornace ardente. Ora, con l'affluire di immense ricchezze a seguito delle conquiste, e con le ovvie contese che la loro distribuzione generava, queste due diverse concezioni della religione si prestavano ad essere utilizzate da interessi politici contrapposti. La prima concezione, quella di una religione consistente in un numero ristretto di adempimenti formali, era utile a chi, gestendo il potere, era interessato alla continuità e ad assicurare il funzionamento di società complesse, in cui i seguaci di religione diverse dovevano convivere e cooperare. La seconda concezione, quella di un ideale che non è stato affatto realizzato, anzi, che è stato fino ad allora disatteso, si prestava invece a rafforzare chi puntasse a cambiamenti radicali nella gestione del potere. Per inciso, queste dinamiche si sono ripetute anche recentemente nella penisola arabica, dove nella seconda metà del XX secolo si sono nuovamente materializzate enormi ricchezze, questa volta derivanti dallo sfruttamento dei combustibili fossili. Anche lì sono nati, pochi anni fa, movimenti eversivi che predicano una versione più intransigente della religione islamica, come Al Qaeda o lo Stato islamico, sono movimenti che hanno fini politici, come li avevano gli integralisti del VII secolo. Ecco, ho cercato di descrivere il clima che precedette la crisi del 656. Vediamo ora cosa accade in quell'anno fatale. Le proteste di coloro che consideravano sostanzialmente traditi gli ideali dell'Islam, cominciarono a manifestarsi in maniera preoccupante nell'anno 655, nelle città guarnigioni arabe della Mesopotamia , e dell'Egitto . Nel 656 il calife Uthman, che ormai molto anziano conduceva a vita, ritirata a Medina, ricevette le delegazioni delle varie città egiziane. Si trattava di alcune migliaia di uomini, avvezzi all'uso delle armi più che alla discussione, che protestavano per il modo in cui era amministrato il califato. Molte proteste riguardavano il governatore arabo dell'Egitto, un fratello adottivo di Uthman, accusato di una politica fiscale oppressiva. Molti chiedevano che il califo stesso abbandonasse la sua carica. I fatti che seguirono sono piuttosto controversi. Certo è che, dopo molti giorni di trattative, alcuni membri di queste delegazioni, sospettando che il califo prendesse tempo, in attesa di truppe inviate da Muawiyah a difenderlo, si introdussero nella casa di Uthman e lo percossero, fino ad ucciderlo. I ribelli esigevano a questo punto la nomina di un altro califo, che si facesse garante di quanto richiedevano, e che forse Uthman aveva in parte promesso. È indicativo del fervore religioso che aveva fino ad allora ispirato il califato, che la capitale di uno stato, che aveva sconfitto immensi eserciti, non avesse nemmeno una forza di polizia per garantire l'ordine pubblico. Ma ormai era venuto un fatto atroce, irreparabile, l'anziano califo assassinato da altri musulmani, il suo sangue versato su un esemplare del Corano che il vecchio stava consultando al momento dell'Iruzione. Seguirono altri giorni di estrema tensione a Medina. Infine, ad un ultimatum dei ribelli, i compagni di Muhammad si risolsero a scegliere un nuovo califo. E questa volta fu designato Ali, il quale, sia pure con riluttanza era consapevole che il suo nome era quello preferito dai rivoltosi, accettò. A questo punto, però, accadde un altro fatto inaudito. Mu'awiyah, protestando per il fatto che Ali non avesse punito i responsabili della morte di Uthman, si rifiutò di riconoscerne l'autorità, come anche di abbandonare la propria posizione di governatore della Siria, dove venne invece acclamato quale nuovo califo. Era la guerra civile, la prima fitna dell'Islam. Fitna è una parola araba originariamente indicante una dolorosa prova, che venne poi a indicare le crisi religiose dell'Islam. Vi erano naturalmente enormi interessi in gioco. Ali era un leader profondamente religioso e moralmente intransigente, che subito rimosse alcuni dei governatori dei comandanti militari nominati dal suo predecessore, per cui altri personaggi in posizione di potere si sentirono minacciati. Tra i sostenitori di Ali, vi erano invece coloro che ritenevano di essere rimasti svantaggiati rispetto ai potenti Quraysh, così come molti devoti lettori del Corano, che ne sentivano disapplicati il messaggio, o che avevano perso parte della loro autorità di esegeti dopo la standardizzazione del testo attuata da Uthman. Infine, tra i seguaci di Ali, vi erano molti che semplicemente ammiravano l'uomo, che aveva tutte le caratteristiche degli antichi eroi, devoto, generoso e intrepido combattente. Ali era famoso per la sua maestria con la spada, in una società che faceva spesso precedere le grandi battaglie da combattimenti individuali, fase che si protraeva anche per ore sotto gli occhi degli eserciti schierati. Comunque, tutti questi eterogenei sostenitori del nuovo califo furono conosciuti come la Shia Ali, cioè la fazione di Ali, termine che ancora oggi designa i musulmani shiiti. Così, già nello stesso anno dell'assassinio di Uthman, vi fu presso Bassora un primo scontro armato fra i seguaci di Ali ed alcuni di coloro, tra cui anche una delle figlie del profeta, che lamentavano la mancata punizione dei colpelli. Ali prima cercò di negoziare, e quasi riuscì a scongiurare la battaglia. Poi, quando questa divampò, comunque per opera di alcuni provocatori, la vinse, e infine usò clemenza verso i vinti, consolidando così il proprio potere in Mesopotamia. Egli spostò a Kufa, città guarnigione araba fondata presso l'Eufrate, la nuova capitale del califato, ruolo che non sarebbe mai più tornato a Medina, come non vi sarebbe mai più ritornato lo stesso Ali. Restava ancora il problema di Muawiyah, che rifiutava di sottomettersi al quarto califo, e che disponeva di ingenti forze armate, nonché del sostegno della stessa popolazione siriana, per la politica di tolleranza religiosa che aveva sempre esercitato. La Siria e la Mesopotamia erano state per secoli regione chiave di imperi nemici, e si trovarono nel 656 di nuovo in guerra l'uno contro l'altra. L'anno successivo, le due parti schierarono i rispettivi eserciti nella piana di Sifin, presso il fiume Eufrate. Dopo tre mesi di vane negoziazioni, eruppe una sanguinosa battaglia, che durò alcuni giorni. Poi avvenne un colpo di scena. Quando le forze di Ali erano sul punto di prevalere, Muawiyah fece attaccare pagine del Corano alle punte alzate delle lance dei suoi soldati, e inserì tra le loro schiere uomini che recitavano ad alta voce il libro sacro. Questo espediente di guerra psicologica ebbe effetto, sia che fosse la paura di attaccare chi brandiva il Corano, sia che si manifestasse l'assurdità di una strage tra uomini tra i quali non sussistevano ancora divergenze religiose, parte dei seguaci di Ali rifiutò di proseguire il combattimento. Si decise allora per un arbitrato che risolvesse la questione tra il califo e il governatore della Siria, arbitrato da affidarsi a due figure prestigiose, ciascuna prescelta da uno dei due schieramenti. Muawiyah designò uno dei suoi comandanti, l'astuto Amr bin al-As, conquistatore ed ex governatore dell'Egitto. Ali ebbe invece serie difficoltà a disegnare l'altro arbitro. La ragione è che già la decisione di trattare aveva sollevato dissensi tra i suoi sostenitori, e questo complicò notevolmente la scelta. Questo dissenso interno al partito di Ali avrebbe avuto conseguenze fatali. Abbiamo visto che la scia di Ali comprendeva uomini animati da fervore religioso, che proclamavano di voler vivere la vera fede, non creare un altro impero in tutto simile a quello dei miscredenti. Essi non tolleravano che le maggiori posizioni di potere nel Califato fossero state ricoperte da esponenti del clan degli Omayyadi, a lungo nemico del Profeta, posizioni di potere che questi Omayyadi avrebbero usato per soddisfare le loro aspirazioni mondane. Proprio Muawiyah personificava per questi integralisti antelitteram un passato di opportunismo ed un programma di azione materialistico che essi aborrivano. Per questo si erano schierati con Ali, prototipo dell'eroe senza macchia, religiosissimo, antitesi vivente di uomini di potere come Muawiyah. Tuttavia, essi ritennero per lo più che un califo avesse diritto al loro sostegno solo fino a quando egli avesse a sua volta seguito in modo ineccepibile i precetti coranici, cioè in pratica fino a quando egli avesse continuato ad ottemperare alle loro esigenti richieste. Quando Ali perseguì un compromesso per mezzo dell'arbitrato, circa dodicimila di costoro si allontanarono dal campo, prendendo un atteggiamento minaccioso. Essi furono chiamati Harijiti, cioè quelli che andarono via. Ora, non c'è dubbio che accettando l'arbitrato, invece di riprendere la battaglia, il Pio Ali avesse indebolito la propria posizione, trasformando l'unico governatore ribelle in una controparte contro la quale egli trattava, sul piano di sostanziale parità. Fu un errore politico, anche se indotto dalla reazione di molti dei suoi sostenitori, nonché dal desiderio di evitare altri lutti. Ma non erano considerazioni di Realpolitik ad alimentare il dissenso dei Harijiti. A costoro sfuggiva il fatto che lo stesso profeta avesse sempre dimostrato realismo politico e pragmatismo. È invece probabile che i loro capi temessero di essere perseguiti per l'assassinio di Ufman, visto che l'arbitrato avrebbe dovuto vertere sulla responsabilità per il delitto. Comunque fosse, i Harijiti si opponevano ad una trattativa con governanti, che essi consideravano non solo corrotti, ma addirittura apostati, indignati da comportamenti di uomini che pure rispettavano i pilastri dell'Islam, questi estremisti sostenevano che la professione di fede e l'osservanza esteriore delle pratiche religiose non erano sufficienti a definire il musulmano. Il vero musulmano era per loro colui che conforma tutta la propria vita alla volontà di Dio. Chi commette gravi peccati, nonostante la fede di cui ha fatto professione, ha in effetti rinnegato Dio, e dunque un apostata e, secondo il Corano, punibile con la morte. Questa loro intransigenza sarebbe stata foriera di letali sviluppi. Ma torniamo ad Alì, il quale, dovendo confrontarsi con la diversità delle opinioni dei suoi seguaci, non riuscì a designare un arbitro all'altezza di quello scelto da Muawiyah. Dopo che un paio di suoi sostenitori rifiutarono di ricoprire il delicato compito, Alì fu indotto a designare un certo Abu Musa al-Shari, un governatore di Kufa, che egli stesso aveva rimosso qualche tempo prima. Anche questo si rivelò un errore, perché costui perseguiva altri interessi, tanto che cercò di proporre un suo parente per il ruolo di Khalifa. I due arbitri si presero vari mesi per maturare una decisione. Essa si immaterializzò nel 658, e costituì un duro colpo per il partito di Alì. Pare che i due arbitri decretassero che sia Alì che Muawiyah dovessero lasciare che si scegliesse un nuovo califo. Alì era costernato. L'arbitrato avrebbe dovuto riguardare le responsabilità nell'uccisione di Uthmane, nella punizione dei colpevoli. Invece si era rivelato uno strumento per contendere il dominio del Califato, ma era tardi per rimediare. Quella che era stata una sua imminente vittoria sul campo di battaglia, si era trasformata adesso in una sconfitta politica. Era lui ora invece che Muawiyah ad apparire in una situazione di inadempienza agli occhi di molti musulmani. Nel 659, un comitato, comprendente i due arbitri ed altre figure che avevano personalmente conosciuto il profeta, ma non i sostenitori di Alì, si riunì per scegliere il nuovo califo. La procedura arbitrale non aveva risolto nulla. Alì non avrebbe accettato una designazione che derivasse dagli intrighi di Muawiyah e Amr. Inoltre, ora meno che mai, Muawiyah avrebbe rinunciato al Califato. Anzi, il governatore della Siria andava rafforzando le sue posizioni. Nel 659 stipulò un trattato di pace con i Bizantini, accettando addirittura di pagare loro un tributo, invece di sferrare l'attacco finale a Costantinopoli, come voleva fare tre anni prima. Si dovette proprio a questa tregua la sopravvivenza dell'Impero d'Oriente, perché quando, molti anni dopo, gli Arabi ripresero le operazioni navali contro Costantinopoli, i Bizantini disponevano ormai di un'arma segreta, il Fuoco Greco, che determinerà la sorte delle battaglie navali. Grazie alla tregua, il giovane Imperatore Costante II sferò una campagna militare contro gli Slavi nei Balcani, la prima dai tempi dell'Imperatore Maurizio. Essa fu un successo. Molti Slavi riconobbero la sovranità bizantina. Altri furono deportati in Asia minore, dove divennero soldati dell'Impero. Anche Cartagine, che i Bizantini avrebbero ormai avuto grosse difficoltà a difendere, isolata com'era in un continente ostile, beneficiò della tregua e rimase per altri quarant'anni parte dell'Impero Romano d'Oriente. Intanto, Mu'awiyah si preparava allo scontro finale per il Califato. Ricompensò Amr, appoggiando il suo ritorno in Egitto. Amr si impadronì facilmente del potere, rovesciando il governatore, nominato da Ali. Infine, Mu'awiyah si impossessò di diverse città irachene, ed estese la propria influenza anche da alcune zone della penisola arabica. Ora, non era più semplicemente un governatore ribelle, ma controllava, direttamente o indirettamente, le regioni economicamente e demograficamente più importanti del Califato. Per contro, il fronte dei sostenitori di Ali si era indebolito durante gli anni dell'arbitrato. Tra l'altro, Ali aveva dovuto fare i conti con i Harigiti, che si erano rinserrati nel loro campo di Nahrawan, in Mesopotamia, dove essi perseguivano il loro ideale di perfetta aderenza all'Islam, poiché però in questo luogo avvennero crudele esecuzioni. La somiglianza con quanto è avvenuto in questi ultimi anni nel sedicente Stato islamico è impressionante. Ali chiese invano la consegna dei responsabili di queste azioni. Infine, non riuscendo in alcun modo a venire a patti, nel 659 sconfisse in battaglia i più irriducibili tra i Harigiti, che vedevano ormai in lui un nemico, non meno dell'odiattissimo Muawiyah. Pochi di questi estremisti sopravvissero, ma questi pochi determinarono inaspettatamente l'esito della lotta per il Califato. Alcuni di loro si incontravano a Makka, e pianificarono uno spettacolare attentato contro tutti quelli che si dividevano il controllo politico del Califato, e che i Harigiti consideravano usurpatori – Muawiyah, Amr bin al-As e Ali – essi avrebbero dovuto essere simultaneamente assassinati, mentre dirigevano la preghiera collettiva nelle moschee delle rispettive capitali, durante il mese di Ramadan. L'attentato avvenne nel 661. Nella grande moschea di Damasco, Muawiyah scampò l'attacco, riportando solo ferite superficiali. A Fustat, invece, Amr non pote recarsi alla moschea, perché è ammalato. Fu il suo braccio destro a cadere sotto i colpi del sicario Harigita. Anche Ali venne aggredito nella moschea di Kufa, e, anche se i colpi che ricevette non sarebbero stati mortali, il veleno in cui era stato intinto il pugnale dell'attentatore lo fu. Dopo alcuni giorni, l'ultimo dei cosiddetti quattro califfi ben guidati morì, con lo stesso eroismo che l'aveva contraddistinto in vita, uomo esemplare sia per gli Shiti che per i Sunniti. Il suo tormentato califfato era durato meno di cinque anni, durante i quali tensioni da tempo latenti erano esplose, impedendogli di governare l'intera comunità musulmana. Per molti dei suoi seguaci, egli era stato l'unico successore legittimo del profeta, alcune parole del quale, designanti Ali alla guida dell'Islam, sarebbero state intenzionalmente omesse dalla redazione del Corano, ordinata da Uthman. Per evidenziare la radicale diversità del quarto califfo da coloro che lo avevano preceduto, gli Shiti si riferirono a lui come al primo imam, termine che significa guida. Ce ne sarebbero stati altri, e la tragica vicenda della famiglia di Ali era ancora lontana dal suo epilogo. Ad essa è dedicata la prossima lezione, che ho pubblicato simultaneamente a questa. Intanto vi ringrazio per il vostro interesse e per le vostre iscrizioni al mio canale su YouTube. Ci rivediamo, se volete, subito, nel prossimo video, la lezione numero 15 di questo ciclo sul Medioevo. Grazie, buona serata.